ciao raga altro video oggi veramente scatenato un altro video perché vi volevo far vedere i alert you programmino che serve col telecomando è un antifurto per il nostro mac mac non windows mac mac proprio mac m a c macintosh questo ecco il mio macbook macbook da 2,4 gigahertz 2 giga i ram 250 gb di hard disk 1499 eurini spesi spesi benissimo si vede si si vede si vede penso che un 499 euro mi bastavano per prendere un computer di windows con le stesse aratteristiche però guarda caso non funzionano mentre questo invece va che una bomba scatola piccolina 1499 euro compratelo in più iphone 499 euro bello è iphone 3g non è ancora calato un euro se avevo un nokia a quest'ora avevo già perso 100.000 euro calzina apple sock come vedete è perfettamente contenuto vabbè lasciamo vedere intanto ho messo il life 09 ringrazio ale che mi ha detto ma cazzo metti al life 09 già hai detto la scatola io ero ancora al life 08 pensavo era lo 09 cercavo i volti e non trovavo niente insomma vi faccio vedere questa applicazione ialert you l'attivo e mi viene questa icona qua allora funziona anche se non avete il telecomandino però già che tanti ce l'hanno adoperiamo allora praticamente è l'antifurto per il vostro mac perché una volta avete impostato la password la vostra password avete impostato la vostra email se lo volete praticamente noi usciamo di casa o siamo in ufficio dipende dove siamo e se lo vogliamo usare praticamente allora mettiamo l'antifurto al nostro mac usciamo se qualcuno ci tocca il nostro mac o prova entrare nel nostro mac si azionerà l'antifurto verrà scattata una foto online site e verrà inviata subito al nostro indirizzo email che abbiamo impostato ovviamente allora vi faccio vedere metto l'allarme adesso il computer è protetto se io lo tocco l'ho disattivato perché noi abbiamo il telecomandino e adesso non so la prima mi è arrivata dopo 5 minuti la foto non so se ho messo eccolo qui lo stronzo vediamo se arriva la foto non so se arriva subito dopo alcuni minuti comunque la funzionalità è questa mettete l'allarme uscite se qualcuno prova a toccare il vostro mac scatterà l'allarme e vi verrà inviata una mail 35 minuti restanti per i volti eh mica mica male eh insomma che cazzo fai ma cazzo ho pigiato scusate help me eccomi eccomi insomma raga piccolo video per farvi vedere una piccola stronzata una cosa voi che mi seguite anche se siete pochi non mi interessa l'importante è pochi ma buoni vorrevo mettere il nome al mio canale ad esempio macblog videoblog appleblog eeeh ifafinosblog tutti questi ragazzi hanno il proprio nome e vi saluto tutti e anche io volevo mettere il mio quindi o mi commentate o mi aiutate mi mandate un email con suggerimento per il nome perché cioè copiare qualche di un altro mi sembra una stronzata non sono un utente windows quindi non lo farò mai quindi se mi aiutate per favore a fare un commentino e mi aiutate a mettere il nome del mio blog vi sarò per sempre grato allarme niente più allarme ciao raga alla prossima ciao ciao ciao